quindi questa parcella da quanto tempo l'hai formata l'hai aperta questa parcella è considerato il fatto che stanotte non erano qua ma solo ieri come giornata è 24 ore di pascolo è abbondante nelle dimensioni ma perché è la prima essendo la prima per non tenere troppo strette le vacche ed evitare problemi con le remissive tengo un po più larga la prima dopo iniziamo ad allargare quindi facciamo un pascolo di ritorno tengo ferma la base la partenza della parcella dove c'è anche l'acqua sviluppo solo in avanti il filo e in modo che poi loro vadano a mangiare qualcosa di fresco ogni giorno trovino del cibo fresco che mangeranno e poi ritorneranno qua a mangiare il residuo perché comunque la vacca piace cambiare se io do qualcosa di diverso a diversi stadi di maturazione è stimolata mangiare un po di tutto perché vuole andare a assaggiare di tutto quindi il fatto di dargli erba a diversi stadi fresca e già pascolata aiuta a stimolare l'ingestione in generale quindi da domani tu comincerai a spostare quel filo là di alcuni metri ogni volta che sarà necessario io vedo degli animali che stanno mangiando dell'erba calpestata che hanno prima calpestato quindi stanno concludendo la produzione qua il pascolo di questa parcella e dall'altra parte vedo degli animali che ficcano la testa sotto il filo per cercare dell'erba fresca nuova sì chiaramente ogni animale poi ha i suoi gusti anche personali il pascolo dell'erba sdraiata è possibile in condizioni di asciutto in condizioni di bagnato la terra in brato comunque per non parlare delle fece dell'urina magari va comunque una volta che l'erba è imbrattata crea ripugnanze l'animale la lascia lì ma se sono in condizioni di bagnato a sua volta i piedi della vacca faranno il lavoro anziché la sua bocca perché i piedi faranno quello che è un sovescio quello che possiamo fare con le macchine ma fanno hanno lo stesso effetto cioè interrano questo residuo interrano sostanze organiche in questo caso vegetale che è andando a aumentare poi l'humus del terreno e chiaramente non sul brevissimo termine ma già dal giro però già dal giro di rotazione successivo magari dopo due vedo già i benefici di questo con un maggior vigore del ricaccio dell'erba quindi torniamo al tema della rigenerazione del suolo dove abbiamo l'animale feci urine ma anche interramento di quello che viene calpestato e della parte che non viene mangiato quello che abbiamo definito tra virgolette un sovescio è possibile solo in condizioni di bagnato oppure in fortissima densità di animali che posso fare io con lo stesso filo elettrico con la famosa tecnica dell'ultra alta densità dove gli animali sono veramente pascolano spalla spalla ma in questo caso ho bisogno di animali senza corna e di indole poco gerarchica oppure lo faccio se magari ho alcune zone dove voglio impattare di più parlo in condizioni di asciutto perché dicevamo che in condizioni di bagnato avviene un po in tutta la parcella ovunque vadano gli animali con posizionando il sale lo stesso abbeveratoio è chiaro che nella zona intorno gli animali calpestano interrano quello che c'è perché c'è una forte pressione e quindi sono dinamiche che io come allevatore come direttore d'orchestra posso veicolare a mia utilità grazie a tutti Grazie a tutti